Ehi, Capitano! Abbiamo trovato un sacco di mappe nautiche e libri mastri, sparsi per il villaggio. Ho sistemato tutto negli alloggi del Capitano sulla Jekyll. È roba seria. Mappe nautiche e libri mastri? Ci serviranno, semmai avremo la nostra flotta. È quel che pensavo, Capitano. Dai un'occhiata tu stesso e dimmi che ne pensi. Grazie a tutti. E non ti apprendiamo, Capitano. È un buongiorno per fare bottino. Che stai pensando? Lo sai benissimo che voglio vedere gli inglesi marcire all'inferno. Se troviamo il loro oro e ce lo togliamo per noi, sarò ben felice. Parli come un vero gallese, eh? E tu a cosa mi vieni? James Kidd mi vuole mostrare un bel bottino a tuo uomo. Parecchio lontano, certo. È la penisola dello Yul, per solare. Ti chiedi così tanto di lui? Mi direi di sì. E poi ha un modo di parlare alla mia coscienza. Ti lascio stupirando. Mi intendo raggiunto. Presto. Purché prendiamo qualche nave lungo la rotta. Io dico che la ciurma accetterà. Faccio la rotta per Tulu. 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 Ok, Letty. 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 Ok, Letty.